Siamo ormai a pochi mesi da raffinare l'uranio a gradazione e faremo il test del missile in settimana. È troppo tondo di sopra, deve essere a punta. Tondo non spaventa, a punta spaventa. Questo farà sorriso sulla fascia di nemico, penseranno che è un grosso robot dildo che vola verso di loro. No, Supremo Leader, la forma della testa del missile non c'entra niente con l'aerodinamica, serve per il rilascio del carico. No, si schiaccia per terra e fa kabum. Supremo Leader, scusa, ma penso che forse le tue informazioni sulle bombe provengano dai cartoni. Ciò che è, se guardo documentari e tanti altri film. Documentari? Permetti una domanda, per caso c'era un anatra che, quando la bomba scoppia, la poverina si accorge che ha il becco qui dietro e per poter parlare si rimette il becco davanti? Ho visto qualcuno che soffreva di una deformità così, sì. Ok, ora sono al cento per cento sicuro che guardi solo cartoni. Consentimi, per un secondo fai finta che sono un idiota. Ok, già fatto. Ok, tranquillo, che fa? Restiamo ognuno della sua idea, amico mio. Ok. Ok.